Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video viaggeremo insieme a Cusco, l'antica capitale dell'impero Inca. Spero che il video vi piaccia. Dopo quasi un mese di viaggio in Peru abbiamo finalmente raggiunto Cusco, la capitale del grande impero Inca. La nostra visita della città è cominciata dalla plaza de Armas che è il centro di praticamente ogni città in Sud America. La piazza è talmente grande e bella che avrei voluto disegnarla a 360 gradi. Grazie a tutti. Un altro disegno che ho fatto nella piazza principale di Cusco è stata l'immensa cattedrale che fu costruita in stile barocco su di un antico palazzo inca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dei tanti luoghi imperdibili di Cusco è il mercato di San Pedro, sempre pieno di gente e dove ci si può trovare davvero di tutto, da un'infinita varietà di patate, quinoa, frutta e verdura, formaggio, pane, fiori, artigianato ed erbe utilizzate nella medicina tradizionale. Abbiamo poi visitato il convento di Santo Domingo che risale al XVI secolo e fu costruito dagli spagnoli saccheggiando e distruggendo purtroppo un tempio sacro agli Inca che già esisteva sul sito. Cusco è davvero piena di resti appartenenti all'antico impero Inca e praticamente ogni piazza o strada merita di essere visitata. Camminando lungo le tipiche stradine di Cusco abbiamo visitato la famiglia di Cusco. Acquedotto coloniale, una bellezza architettonica unica e uno degli acquedotti più grandi del Peru, costruito in pietra e che serviva ad evacuare l'acqua piovana dalla città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo anche visitato il Museo della Coca, pianta che viene coltivata in abbondanza in Peru e ritenuta sacra dagli Inca. Oggi le foglie vengono maggiormente utilizzate per aromatizzare il cioccolato e le bevande e per preparare il tè, la cui consumazione aiuta a combattere il mal d'altura, visto che tante città in Perù e Cusco compresa si trovano a più di 3000 metri d'altitudine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un mi piace, iscriverti al canale e condividerlo con i tuoi amici e grazie per accompagnarmi in questo viaggio intorno al mondo.